Se la vita comincia a 40 anni, perché diavolo ci mandano qui con tanto anticipo? Si chiede la scapigliata Mafalda, uscita dalla penna del fumettista argentino noto con il nome di Chino. Benvenuti su Forti, il podcast che ci rivela i superpoteri dei quarantenni. Io sono Carla Fiorentino e di me vi basti sapere che parlo con cognizione di causa.